Piero Ricca, qual è il quadro italiano attuale e cosa cambierà? Se cambierà. Bisogna impegnarsi tutti per il cambiamento, in un'assunzione di responsabilità collettiva e individuale molto forte. Questa è la cosa più importante di tutti, la parola responsabilità. Il quadro politico attuale è quello che descriviamo e denunciamo ormai da tanto tempo. L'Italia è dominata da un'oligarchia con a capo Silvio Berlusconi e questa oligarchia ha svuotato di senso, di sostanza la nostra Costituzione. Tutti i principi, tutti gli articoli fondamentali sono cancellati. Il Capo dello Stato ha richiamato all'unità, alla coerenza, a dei costumi un po' più educati, come un paese che vive in maniera soffocata. Perché a volte si arriva in ritardo a fare dei richiami al potere politico? Il Capo dello Stato fa bene a fare questi inviti al galateo politico, però il problema qui sono le continue spallate di potere, fatte anche a colpi di leggi, che il Capo dello Stato potrebbe respingere alle Camere e quasi mai l'ha fatto. E quindi credo che ci sia, da parte del sistema istituzionale politico, ma più in generale della classe dirigente di questo paese, un deficit di moralità e anche di forza morale. Non ci saremmo ritrovati in questa situazione, non saremmo caduti in questo abisso di degrado, se avessimo avuto una classe dirigente più seria, a cominciare dai vertici delle istituzioni. Secondo lei, secondo la sua opinione, c'è la possibilità di un cambiamento attraverso anche i movimenti nati spontaneamente da parte dei cittadini? Un esempio, il movimento nato facendo capo a Beppe Grillo potrà portare un risultato in qualche modo? La società civile deve svegliarsi, deve attivarsi attraverso tutti i suoi canali, perché se la società dorme, se è fatta da cittadini che pensano che basti andare a votare una volta nei cinque anni per assolvere i propri diritti, i doveri democratici, è chiaro che una nazione diventa il terreno di conquista, di oligarchie, d'affari e di partito. Quindi tutti i movimenti che fanno crescere la consapevolezza, che diffondono informazione, che attivano dei percorsi di protagonismo civile, vanno benissimo. A cominciare dalla difesa di questa nostra bussola civile che è la Costituzione, dalla difesa dei beni comuni, che sono fondamentali, dalla difesa di un'idea di giustizia, che è stata disprezzata e calpestata in ogni modo. Quindi c'è un grandissimo lavoro da fare da parte di tutti i cittadini, di tutti i movimenti di opinione e di buona volontà. Benvenga il lavoro che stanno facendo tanti gruppi di cittadini vicino a Grillo, se questa è la direzione comune, cioè riscattarci da questo abisso di degrado e da questa sottomissione di milioni di italiani ad un'oligarchia che vive di abusi e di menzogne. Un augurio in particolare in questa giornata di festa? Io sono venuto da Milano a Napoli sperando nel bel tempo, ma qui piove, ma la cosa più importante al di là del tempo è che ci sono tante persone anche qui che vengono da tutta Italia, che hanno volontà di cambiamento. Ho sentito tante parole importanti, sono convinto che non siano soltanto parole, ma impegno costante. C'è bisogno di questo, non soltanto di responsabilità, ma anche di continuità, cioè di un impegno duraturo, costante nel tempo. Sono convinto che se cresce un'opinione pubblica e se cresce una società civile forte, consapevole, informata, determinata, è ancora possibile attivare un cambiamento politico che deve essere radicale e deve riscoprire la modernità, la bellezza della nostra Costituzione.